Allora, buonasera, mi chiamo Marco Di Berti, sono presidente dell'associazione European Consumers APS, ci occupiamo di difesa dei consumatori, difesa dell'ambiente ormai da molti anni, io personalmente ho all'attivo circa 35 anni di volontariato, sono anche laureato, ho una laurea, sono un agrotecnico laureato, facciamo bene, e quindi mi occupo sia della difesa delle foreste, degli ecosistemi ripariali, ma da molti anni facciamo anche pubblicazioni scientifiche per una corretta alimentazione, tendenzialmente noi siamo per prodotti biologici certificati, di certificato vero biologico, che anche intorno al biologico ci sarebbe da dire, e poi siamo anche ovviamente per una finiera al 100% italiana. Allora, in questo incontro vi andrò a parlare per l'appunto di come si imparano a leggere le etichette, perché il consumatore medio normalmente si ferma alle figure, alle immagini, i titoli, insomma i sottotitoli, sia e no. Vi faccio un esempio, un classico, prima di entrare proprio nello specifico. Ad esempio, in determinate confezioni, ultimamente ci sono molte pubblicità incannevoli, pubblicità incannevoli che sono reati pedalmente sanzionabili. Faccio l'esempio, questo prodotto non contiene glutine, senza glutine, senza, se siamo fortunati, senza OGM, che peraltro se ci sono sopravvoli per noi devono essere ricordati in etichetta, lo dice la legge, non contiene olio di palma. E quindi voi vi sentite tranquilli. Invece non dovreste fermarvi a quello che non contiene. Questo succede sia nei prodotti alimentari come anche nei cosmetici. Dovete andare sempre, dico sempre, anzi soprattutto in questi prodotti dove dice non contiene questo, non contiene quest'altro, dovete sempre andare a vedere cosa contiene. Volete pure sapere cosa contiene, cosa andate a mangiare, no? Ecco, normalmente quasi sempre, perché poi noi facciamo anche delle indagini a trappeto nei vari supermercati, quasi sempre quando c'è scritto non contiene olio di palma, puntualmente c'è scritto grassi vegetali che può contenere di tutto e sovventemente c'è l'olio di cozza, per quello che mi riguarda può andare bene giusto per i trattori, insomma, anche per capire, per cui controllate sempre l'etichetta, sempre. E poi dovete andare a vedere gli additivi. E adesso andremo a parlare degli additivi. io ho elaborato questo lavoro. Prima i motori di ricerca, quegli ufficiali dove andare a prendere le informazioni, poi diciamo quali sono i parametri di riferimento, quali sono le dosi minime e massime consentite per questi additivi, i vari regolamenti di riferimento europei e i decreti di ricevimento, i regolamenti ancora, e la definizione delle categorie di tutti questi additivi a categorie e sotto categorie, e ancora quali sono gli additivi principalmente pericolosi, che magari possono essere tossici, zegenotossici, cancerogeni, interferenti endogini, interferenti endogini, più diciamo in un contesto di pesticidi, diciamo genotossici o neurotossici. Tutti questi additivi sono consentiti a livello europeo. Alle volte in alcuni stati europei vengono vietati e in altri stati continuano a darli. Allora, direi di iniziare. Possiamo vedere in questa prima slide di apertura sulla sicurezza alimentare i motori di ricerca della banca da prodotti che uno dovrebbe fare riferimento. Ora, molte persone fanno riferimento a delle applicazioni, applicazioni che vanno sul barcode e vanno a verificare se quel prodotto può essere genuino oppure no. Noi come associazione dei consumatori sconsigliamo l'uso di queste applicazioni che sovventemente dicono delle mezze verità, perché spesso direi ci sono altri tipi di interessi, per cui dovete, in estrema sintesi, chi è che fa il mercato? È il consumatore consapevole. Il consumatore consapevole è lui che sta a dire ma allora è tutto velenoso e noi qualcosa dobbiamo pure mangiare. No, siete voi che fate il mercato, perché se voi, come è successo con l'olio di palma, non comprate quel prodotto perché vi fa male alla salute e magari fa male anche all'ambiente, non lo comprate, il produttore dovrà necessariamente modificare quella linea di prodotti o chiudere l'attività. Quindi siete voi che fate il mercato, fate la differenza. Quindi i motori di ricerca dove andare a cercare gli additivi, quindi prima cosa andate a guardare l'etichetta, andate a vedere l'etichetta, direi il prodotto, se è scritto in piccolo, è scritto magari in bianco con lo sfondo giallo, non è leggibile. Esiste anche la lente che potete usare sul cellulare, ma io tendenzialmente vi dico se ci sono delle etichette non chiare, non leggibili, non comprate il prodotto, non vi sforzate, lo lasciate lì, perché già lì c'è chiaramente un intento truffaldino per tenere nascosti degli additivi alimentari. I motori di ricerca principali, gli importanti, dove andare a caricare il nome, diciamo, chimico del prodotto, in modo importante, andate a farlo sull'ECHA, questo è il sito importantissimo, e ch.europa.eu.it, ma sono questi, adesso poi più tardi possiamo fare delle prove proprio, centriamo, vi faccio vedere come funziona il motore di ricerca, approvate i dati di studio da privacy, mettete il nome e da lì vi dirà le prime tipologie, le prime note caratteriali di quel prodotto, continuate a prendere la ricerca e vi dirà le classi di pericolo, e vi dirà esattamente se è un prodotto che può far male alla salute. Quindi c'è questo ECHA, che è il portale europeo di riferimento, proprio del regolamento RASP, quindi dell'ente europeo che si preoccupa della salute dei cittadini, quindi è quello dove tutti gli stadi europei fanno riferimento. Poi abbiamo il PubChem, che è un altro ente che è internazionale, perché magari sulle CHA dove noi spesso ci interfacciamo e diamo anche delle informazioni che loro recepiscono per fare aggiornare delle classi di pericolo, già delle volte lo abbiamo fatto come associazione, ma hanno sempre magari un sito, magari mette delle sostanze tossiche e un altro sito non lo fa, o magari non hanno aggiornato il database. E allora a quel punto andiamo anche a cercare su altri portali di riferimento, come il PubChem, che ripeto è estereamente diciamo importante, diciamo il PubChem è americano. Poi abbiamo il PubMed, che è un sito di riferimento sempre europeo, altrettanto importante, quindi cercate di verificarli tutti. Se uno magari vi dice che quel prodotto non è tossico, non vi fermate a quel prodotto. Un attimo che ci arriviamo, c'è un'altra ancora che si chiama www.products.ru, numeri CAS. Cosa sono i numeri di CAS? Dopo lo andremo a vedere nel dettaglio. Il numero di CAS identifica quel prodotto senza se e senza ma, perché un prodotto magari ce ne possono essere da alcuni che sono molto simili, perché la formula varia di poco, magari il nome commerciale che è quasi del tutto identico, con il numero di CAS è quello, è come se ne aveste il DNA di quel prodotto. Non si può sbagliare. E sono numeri internazionali, vari a livello internazionale, poi adesso lo andremo a vedere nel dettaglio. E ancora c'è la nostra pubblicazione dell'Associazione European Consumers, abbiamo fatto questa pubblicazione in continuo aggiornamento su tutti gli additivi alimentari, i più, diciamo, i più pericolosi che abbiamo ricordati, diciamo, in questa pubblicazione, dove voi potete anche sapere in quali prodotti sono presenti questi additivi e anche in che concentrazioni. Allora, quindi andiamo a vedere DGA, dose giornaliera ammissibile. La DGA è la dose giornaliera ammissibile, cioè la quantità che in base al peso corporeo una persona può assumere quotidianamente anche per tutta la vita, senza rischi individuali allo stato attuale delle conoscenze. è espressa in microgrammi-chilogrammo di peso corporeo, si calcola dividendo la quantità massima di un individuo che una cavia può ingerire senza danno per un fattore di sicurezza abitualmente 100. Ora, questo è quello che dice l'EFSAF, quello che dice l'ente di riferimento europeo, che diciamo, alle volte è un po' permissivo, mettiamo così, permissivo, anche per andare un po' in controlli multinazionali, diciamo, alle volte è più attento, alle volte è un pochino più, è un po' più largo nel permettere determinate sostanze. Perché? Perché l'EFSA, come abbiamo precisato, valuta la tossicità dei coloranti ignorando l'effetto tossico correlato all'assunzione quotidiana di altri additivi, coloranti e non soltanto coloranti. Quindi ci sono il fattore del bioaccumulo, del bioaccumulo di ogni singola sostanza che non è vado proprio per tutti i composti, il bioaccumulo, ma per taluti lo è, e poi non va a valutare anche il bioaccumulo, non solo individuale, ma anche quello che avviene con più composti, che le volte vanno anche a interagire tecnicamente tra di loro. Vi faccio un esempio. Se voi dovete comprare un farmaco, il vostro medico vi dirà, sì, questo farmaco va bene, ma lei, non so, assume l'aspirina, che so, un antichiastrino, assume l'aspirina, se prende l'aspirina non può prendere anche quest'altro che fluidifica il sangue, l'appunto lì. Quindi la stessa cosa è negli alimenti, ci sono degli additivi che non possono essere correlati tra di loro perché possono portare dei danni anche importanti. Quindi il numero di CAS di cui vi parlavo prima, che identifica quel prodotto, il numero di CAS è una designazione numerica assegnata alle sostanze chimiche dal servizio degli estratti chimici degli Stati Uniti, per appunto il CAS, è uno dei metodi più utilizzati al mondo. Chemical Lab Strat Service è un dipartimento dell'American Chemical Society e gestisce un data base di composti e sequenze chimiche. Al momento il data base a CAS contiene oltre 55 milioni di composti chimici diversi, sia inorganici che organici. È una designazione internazionale affidabile assegnata alla sostanza specifica in diverse nominature e discipline approvate dalla scienza e dall'industria e dagli organismi di regolamentazione. Ai composti chimici viene assegnato un numero di CAS e in fine della loro identificazione. Quindi io premento, poi vi farò vedere degli esempi commerciali, anche con dei loghi registrati di prodotti commerciali che trovate nei supermercati. Ovviamente sono tutti autorizzati a essere in commercio ma in grado che contengono degli additivi che possono essere preoccupati per la salute perché ovviamente l'exa, l'organo per l'appunto di riferimento, il governo italiano, gli permette in determinate concentrazioni, quello dicevamo prima, il DGA, dose giornaliera ammissibile, gli permette di usare questi prodotti, questi additivi. Noi come associazione di difesa dei consumatori chiaramente consigliamo ai consumatori di prendere prodotti alimentari che non contengono proprio gli additivi o se al limite li contengono in concentrazioni minimali e preferibilmente di origine naturale. Ma non tutti gli additivi naturali necessariamente sono tossici perché anche qui bisogna fare un distinguo. Il regolamento di riferimento, il regolamento CE numero 1333-2008 e il decreto ministeriale di riferimento 31-3-965 regolano gli additivi alimentari. Ora il regolamento CE di per sé è stato realizzato molto bene, non è diciamo molto permissivo o quant'altro, il problema è che poi ci sono regolamenti che subentano dopo che vanno a inficiare il lavoro pregresso e purtroppo quasi sempre sono peggiorativi. Quindi bisogna anche della base cercare di aggiornarlo con i tempi in relazione alle varie normative che subentano del tempo. Quindi i coloranti, i coloranti sono sostanze che conferiscono un colore a un alimento o le restituiscono la colorazione originaria e includono componenti naturali degli alimenti e altri alimenti di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti. Sono coloranti ai sensi del presente regolamento, le presenze ottenute da alimenti e altri materiali commestibili di base di origine naturale ricavati mediante procedimento o fisico, questo è importante, anche il colorante può essere naturale o chimico, che è una cosa molto differente. Poi andremo a vedere con degli esempi addirittura di prodotti IGP, di indicazione geografica protetta, che da dove sono stati estratti questi coloranti a livello chimico possono essere molto ma molto pericolosi per la salute. Poi vi direte ma se sono IGP come è possibile? Di questo ne apriremo poi una parentesi importante. Conservanti sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato dai microrganismi e dalla proliferazione dei microrganismi patogeni. Poi abbiamo gli acidificanti, poi ci sono anche delle sottocategorie, ma insomma sarebbe un discorso troppo lungo ma se voi ve lo chiedete io vi rispondo. Gli acidificanti sono sostanze che aumentano, vi ho detto, l'acidità di un prodotto alimentare e conferiscono in esso un sapore aspro. Gli antiossidanti, che fanno parte più o meno della stessa categoria, questa è una sottocategoria, sono sostanze che prolungano la durata di conservazione degli alimenti proteggendoli dal deterioramento provocato dall'ossidazione come l'irracidimento dei grassi e le variazioni di colore, anche qui abbiamo degli addensanti più o meno pericolosi. Gli addensanti sono sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare, come ad esempio degli yogurt, per fare un esempio. Gli emulsionanti sono sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili come olio e acqua in un prodotto alimentare. Poi abbiamo gli agenti igienificanti, sono sostanze che danno consistenza a un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel. Poi abbiamo gli stabilizzanti che sono sostanze, poi è importante anche, perché poi me lo potreste far notare, dato che ogni additivo ha una sua fascia, un suo range di valore, ce ne sono alcuni che li ritrovate anche dopo, perché possono essere a duplice attitudine si dice. Duplice attitudine, cioè possono magari essere la colorante, al tempo stesso la conservante o addensante, possono essere addirittura in alcuni casi presenti in etichetta e in altri non esserlo. E su questo poi andremo a parlare, sulla chiusura dell'argomento, dei coadjuvanti tecnologici, che sono degli additivi, non additivi. Non sono considerati additivi, o meglio, a secondo della funzione, possono essere additivi oppure possono non esserlo. E se vengono riportati come non additivi, non sono presenti in etichetta. Quindi voi siete convinti che lì non c'è l'additivo, ma in realtà c'è una sostanza estranea. Magari in concentrazioni minimali, ma anche quelli sono in studio. In Italia sono consentiti, in Francia sono vietati. O meglio, sono regolamentati, devono essere presenti in etichetta. Quindi gli stabilizzanti sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dallo stato fisico-chimico di un prodotto alimentare. Gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una distrazione omogenea di due o più sostanze immiscibili di un prodotto alimentare. Esaltatori di stabilità sono sostanze che esaltano il sapore e o la fragranza esistente di un prodotto alimentare. E infine, insomma esaltatori di stabilità, tipo il classico dallo, perché direi, ecco per faccio un esempio, gli edulcoranti sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce agli alimenti o come edulcorante da tavola. Ora, questa è una tabella molto importante, veramente importante, di riferimento per tutte le categorie, per appunto degli additivi. Poi ci sono delle sottocategorie che adesso non andremo ad affrontare, se non forse nelle slide successive qualcosa. Allora, E100, e adesso dirò anche che cosa significa questa E, che cosa significano i numeri che seguono, progressivi. E100, da E100 a E199 possono essere solo e soltanto coloranti, migliorano l'aspetto di bevande e alimenti vari, quindi quando voi sull'etichetta trovate un E, dopo l'E c'è un 1, E1 è un colorante, non può essere un'altra cosa. E200, da E200 a E299 abbiamo a che fare con i conservanti che rallentano o bloccano le alterazioni provocate dai microorganismi. Poi abbiamo dagli E300 agli E399 abbiamo gli ossidanti e regolatori di acidità che impediscono i processi di riancidimento dei grassi e l'includimento di frutta e verdura. Da E400 a E499 abbiamo gli addensanti, gli stabilizzanti e gli emulzionanti. Da E500 a E599 abbiamo gli antiagglomeranti, poi ci sono anche delle sottocategorie, ma insomma tendenzialmente. Poi anche gli stessi antiagglomeranti, se vogliamo, sono una sottocategoria degli stabilizzanti. Diciamo facendo un discorso un po' però più complesso, io mi limiterei a questi gruppi al momento. Da E600 a E699 abbiamo gli esaltatori di sabidità che esaltano il sapore e la fragranza di un prodotto. Da E900 a E999, vari, vari, perché poi andremo a vedere, diciamo, ce ne sono varie tipologie e vanno anche a ripetersi quelli che abbiamo già detto. Poi abbiamo i dolcificanti, gli agenti schiumogeni, che quindi evitano la schiuma, ecco, come ad esempio dei succhi di frutta, perdete una. Gas per confezionamento, ecco come ad esempio, vi faccio un esempio X, la classica insalata che trovate nelle buste, usano il gas di confezionamento, normalmente sono insalate, c'è sempre scritto che sono lavate e quant'altro, quelle anche se le lavate, sono insalate e meglio evitare. Quindi prevedigete, spendete un po' più di tempo in cucina e cerchiate di comprare preferibilmente verdura a chilometro zero e sapendo anche il chilometro zero dove lo andate a comprare, perché altrimenti vi fate male ugualmente. Quindi abbiamo gli E1000, dalle E1000 a E1999, che sono gli agenti di rivestimento, gli umidificanti, gli enzimi e gli amidi. Nota, nel gruppo tra E1000 e E1999 sono riportati in un numero progressivo nuovi addensanti, funzionanti e stabilizzanti, perché chiaramente nel tempo usciranno nuovi prodotti e non possiamo tornare indietro. Quindi si va a salire in termini cronologici. Quindi diciamo che noi identifichiamo tra E1000 e E1999 come, come diciamo, aggiuntivi, come nuovi, gli agenti di rivestimento, gli umidificanti, gli enzimi e gli amidi. Vi faccio un esempio di agenti di rivestimento a duplice altitudine. Un colorante come il biossido di titanio che noi abbiamo fatto, noi proprio in merito dell'associazione, abbiamo fatto vietare in tutta Italia. Ora il biossido di titanio è risaputo, è un colorante che è stato definito cancerogeno per inalazione, è un colorante diciamo anche gerotossico, produce tutta una serie di danni importanti anche agli organi in genere. Ora, si sapeva già che era cancerogeno per inalazione, ma si è permesso per lungo tempo di usarlo negli alimenti come sbiancante. Quindi, e si può trovare anche come agente di rivestimento, quindi a duplice altitudine. Quindi è sia sbiancante che come agente di rivestimento e dove lo vanno a mettere puntualmente dei prodotti che vanno a contatto, che usano i bambini, tipo caramelle, confetti, queste cose qui, insomma cose di questo genere. Puntualmente sono presenti lì. Scusatevi, faccio una piccola parentesi che esce dal contesto della giornata odierna. Fate attenzione, poi magari faremo una serata, se vi fa piacere, anche sui cosmetici e anche sui vernici e sui detersivi, abbiamo fatto numerose pubblicazioni scientifiche. Ma ad esempio per il biossido di ritaneo voi lo trovate anche nelle vernici. Le vernici che poi andate ad andare dentro casa, le tinte lavabili per tepere, e quelle chiaramente poi nel tempo spolverano, oltre che solo i nanoparticelli, quindi se vi finiscono addosso mentre state dando la tinta, quelle vanno direttamente in circolo e sono cancerogene. Quindi anche le grame solari? Assolutamente. Lì abbiamo fatto una pubblicazione anche sulle grame solari. Abbiamo trovato addirittura dei filtri solari, di cui c'è una sostanza che abbiamo denunciato a livello europeo, che è l'orizanol, o anche detto gamno-orizanolo, che è un filtro solare che è consentito nei cosmetici biologici. Praticamente l'ente di riferimento, l'EcoCert, l'ente certificatore del biologico in Italia per i cosmetici, lo definisce sicuro. La Cosmos, a cui abbiamo scritto a livello europeo, che peraltro la sede non si sa bene, perché noi abbiamo scritto ed è tornata in giro la lettera, per cui la sede c'è, ma non c'è. Sappiate che il gamma-orizanolo o orizanol è l'estrazione chimica della crusca di riso, che a differenza di quello sativa, che è quello naturale, è molto pericoloso per la salute, addirittura è stato definito dall'ECHA, quindi dall'ente europeo di riferimento, letale sulla pelle, ovviamente in bioaccumulo, ed è consentito nei filtri solari biologici. Allora, vi stavo dicendo, i codici alfanumerici degli additivi alimentari, quindi nell'Unione Europea tutti gli additivi alimentari sono identificati da un numero proceduto dalla lettera E, quindi tutti gli additivi, nessuno escluso, la prima cosa che trovate è la lettera E. E raggruppati a secondo della loro funzione, tali codici alfanumerici di caratterizzare di caratterizzare le sostanze identificabili in base alla funzione e alle caratteristiche. Il primo codice, seguente alla lettera E, si riferisce alle categorie d'uso della sostanza, quindi è molto facile, poi se c'è qualcosa che non vi è chiaro me lo dite e mi fermo. Allora, il codice, quindi il codice 1, abbiamo detto la E è per tutti, tutti gli additivi diciamo la E. A seguire 1 che significa? E1 è un colorante, E2 conservanti e antimicrobico, E3 acidificanti, antiossidanti, naturali, naturali identici, sintetici, E4 addensanti, emozionanti e gerificanti, E5 stabilizzanti, E6 esaltatori di stabilità e poi E9, tra i 9 e i 10 sono qui genericamente messi in un colorante, ma come ti ho già detto, si ripetono anche quelli precedenti, che poi sono subentrati dal tempo. Ora andiamo a vedere, abbiamo detto che i coloranti sono E1, il numero successivo per i coloranti a E1 dà il colore, quindi se abbiamo a che fare con un E1, 0, è giallo, E11, arancio, E12 sarà rosso, blu, verde, bruno, nero, naturali, vari colori, bianco, metallizzato, minerale e andiamo al piotto forte, vedete un al volo già così vi avverto su un additivo pericoloso per la salute che dovreste evitare, ovvero sia l'E180, chiaramente lo 0 è un numero progressivo che non dovete, non ha nulla a che vedere con lo 0 del giallo, se è ben chiaro, cioè questo è il terzo numero che è progressivo, quindi il terzo numero infine è specifico per ogni sostanza o gruppo di sostanze con caratteristiche simili. Ora, di E180 rosso uno ce n'è e si usa esclusivamente per la crosta dei formaggi ed è pericoloso, quindi quando voi comprate del formaggio, la crosta è colorata, è colorata con questo E180 rosso e sulla buccia normalmente c'è scritto buccia non edibile, è un po' come quello di limoni per capire, a proposito di limoni, scusatemi, questa non è un incontro in cui vi parlo di pesticidi, di cui noi abbiamo fatto numerose pubblicazioni, anche la marcia contro i pesticidi che viene fatta da tre viso, però nel materiale glielo forniamo noi per capire, per cui i pesticidi abbiamo lavorato tantissimo e magari se vi interessa una sera facciamo qualcosa, ma ad esempio gli antichitocamici che vengono usati insieme con determinati argenti di rivestimento sugli agrumi, dai limoni agli aranci e quant'altro, sono molto pericolose, genotossiche e cancerogene e non compratele, sia per non alimentare questo tipo di mercato e sia perché questo tipo di rivestimento non si ferma alla buccia, finisce all'interno del frutto, quindi voi lo mangiate, a prescindere. Allora, se metto a fare i pesticidi poi non finisco più perché ci sono delle cose, faccio l'esempio delle fragole, che adesso in questo periodo non comprate fragole che non siano biologiche, rigorosamente biologiche, sennò vi fate molto male, soprattutto per i vostri pietre, perché sono stati editati dei prodotti in deroga molto pericolosi. Allora, comunque ripeto, se siete interessati poi magari una sera li dedichiamo ai pesticidi. Coloranti esensi del DM 27 febbraio del 96, i coloranti sono sostanze che conferiscono colore a un alimento o ne restituiscono la colorazione originaria e possono essere di origine chimica o naturale. Alcuni di essi sono di origine artificiale e danno impedanti i profitti tossicologici. Dei 40 coloranti alimentari autorizzati, 10 sono di origine vegetale o animale, 6 sono minerali e tanti sono sintetici, che sono i più pericolosi. Non è consentito addizionare coloranti ai seguenti alimenti. Poi forse uno dovrebbe usare il condizionale, qui sarebbe più esatto, perché poi qui ci sono una serie di regolamenti che hanno aperto delle finestre, dei varti pericolosi. Quindi quali sono questi alimenti? L'acqua, lo zucchero, il miele, il latte, l'olio yogurt, il pane, la pasta, la carne. E la carne qua già entriamo in ambiti diversi, perché poi magari si potrebbe usare, sotto un punto di vista, ma per questo sono delle carni elaborate, lavorate, e quindi cercate sempre di prendere cose tal quali, non prodotti particolarmente che sono stati elaborati in un certo modo, tal quali per capire, altrimenti rischiate anche di finire nella carne separata meccanicamente, di cui vi parlavo prima di iniziare questo incontro. Quindi fate attenzione, sempre cose naturali, insomma. Altrimenti possono essere presenti, ad esempio, i solfili, che hanno, se vogliamo, le dublice attitudini, nel senso che possono colorare la carne di rosso, magari della carne che sta in uno stato pericoloso di avanzamento, e non usano i coloranti, usano i solfili. Quindi, e questo anche per il pesce, ci sono delle eccezioni, ad esempio il salmone, per farvi un esempio, i sottoprodotti del salmone sono, vengono spesso colorati con dei coloranti pericolosi, e quindi evitate di prendere il salmone quantomeno che possa poco, perché quasi certamente lo trovate presente, comunque deve essere ricordato in etichetta. E veniamo a uno dei piatti forti, così iniziamo con qualche brand conosciuto, diciamo. Allora, noi abbiamo fatto una segnalazione, correva l'anno, al consorzio, al consorzio GP Aceto Balsamico di Modena. Abbiamo fatto una segnalazione al consorzio, abbiamo fatto una segnalazione all'ex ministero, quando non era ancora della sovranità alimentare, che stanno facendo le cose più incredibili, di alimentare, lasciando nulla, di sovranità. Quando era ancora MIPAF? Allora, quando era ancora MIPAF avevamo praticamente fatto questa segnalazione, quindi al ministero, per dire come era possibile che in prodotti GP, indicazione geografica protetta, ci potessero essere delle sostanze molto pericolose per la salute, addirittura cancerogene. E quindi abbiamo fatto questa segnalazione. Io gli ho scritto personalmente, come associazione, con tanto di PEC, nessuno ha risposto. Nessuno ha ritenuto quantomeno dirci che so, vi state sbagliando, guardate, non è così. Insomma, nessuno, né del consorzio né del ministero ha risposto. Abbiamo altresì iscritto a diversi enti dei NAS, io normalmente mando a più enti, almeno che siamo sicuri che la notizia gli arriva. I NAS, a distanza di tempo, mi hanno poi richiamato, mi hanno richiamato, sotto ufficiale, ma io ho strette collaborazioni, varie volte li ho fatti intervenire per varie cose, e praticamente hanno riscontrato che effettivamente il problema c'era, paradossalmente, posso andare assurdo, mi è stato risposto che, visto che si è sempre fatto da sempre, le cose potevano andare avanti più o meno così. Non è che il popolo l'hanno detto in questo modo, ma lo hanno fatto capire. Hanno fatto anche un approfondimento di indagine su un po' su tutti i posti, e hanno trovato questo prodotto. Premetto che, allora, intanto andiamo a leggere, E150D. Allora, intanto io voglio dire, cerchiamo di capirci. Voi se andate a comprare un aceto balsamico IGP, del fumo che andate a comprare un prodotto di qualità, un prodotto, diciamo, di qualità superiore, abbiamo già detto che l'aceto normale non può contenere coloranti, ma qui parliamo di un aceto elaborato, che è un aceto balsamico, che è un'altra categoria. L'aceto balsamico, se voi andate a prendere un IGP, vi aspettate un prodotto per capire, se l'aceto è più scuro, prende quel colore bruno, significa magari invecchiato in botte di rovere, non so, appunto lì, quindi ha preso quel colore, ma se voi andate a vedere l'ingrediente, l'etichetta, e trovate che c'è del caramello, allora direi ma se c'è il caramello, significa che l'hanno colorato, quindi forse questo invecchiamento reale non c'è stato, ormai il caramello è consentito nell'IGP, quindi ci può stare, ed è, la sigla è E150, quindi se trovate E150 sarebbe meglio non ci fosse, ovviamente, soprattutto se andrà a pagare parecchi soldi per pagare, per poi prendere un additivi, ma ci può stare, ma se invece c'è il caramello, diciamo, solfido ammoniacale, che è un'estrazione diciamo di sintesi, chimica scusatemi, un'estrazione chimica che noi riteniamo costi molto di meno, per questo viene fatta, costa molto di meno, viene fatta a una lavorazione al di sotto dei 60 gradi, può essere molto pericolosa per la salute e va anche il mio accumulo, un po' come questa sostanza che vi stavo dicendo, questa sostanza che è l'E150D, l'autorità europea per la sicurezza alimentare, quindi l'EPSA, ha stabilito che alcuni gruppi di popolazione hanno un alto rischio di consumarne troppo, di fatti questo colorante voi lo trovate anche ad esempio, ne una ne una coca cola, ecco, la coca cola contiene pure questo colorante, chiaramente chi è che non se ne beve pure tanta di coca cola, no, quindi insomma va nel tempo a creare dei problemi, non che la coca cola abbia solo questo di problema, però è uno dei problemi, la coca cola zero che in questa serata non ho portato, diciamo, i vari additivi che ci sono, credo sia in assoluto la bibita più pericosa attualmente sul mercato, per pericosità e quantitativo di additivi. Allora, tornando all'acido balsamico, è un possibile cancerogeno a causa di un N sottoprodotto? Per capire, seppure andate nel motore di ricerca che io prima vi ho fatto vedere, uno dei primi, le CHA, e mettete il numero di casse equivalente al, e ci avete anche il sito di riferimento per i numeri di casse che ho segnalato, e andate a mettere il numero di casse equivalente a, che identifica le 150D, non vi ricorderà nessuna pericolosità di questo prodotto, è importante quantomeno, non vi dirà che è cancerogeno. Quindi dovete sapere qualcosa di più, a livello di chimica, tra virgolette, e cioè che il sottoprodotto della lavorazione, dell'estrazione di questo aceto balsamico, di questo colorante chimico, sviluppa e rientra in una classificazione che è il 4 MEI, 4 MEI che tra le 249 sostanze potenzialmente cancerogene per l'uomo nel gruppo 2B, i 4 MEI provoca gravi ustioni cutanei, gravi lessioni oculari, è nociva per ingestione, è nociva a contatto con la pelle, provoca grave irritazioni oculari, irritazioni cutanee, irritazioni respiratorie. Diciamo io qui in queste slide, anche per cercare di essere contenuto nelle esposizioni, qui l'ho scritto, il CHA e anche Infocard, diciamo, come sostanza, ma sappiate che ogni cosa che è riportata qui, chiaramente è tutta verificata e potete trovare tutti i riserimenti. Però noi sull'etichetta troviamo solo E150? No, se, allora, assolutamente, trovate, ma se voi sull'aceto balsamico IGP, e noi li abbiamo verificati, ce n'era uno solo, vi faccio un esempio, qui vedete che c'è l'aceto balsamico di Modena IGP, due vittorie, che è senza coloranti, di tutti quelli che noi abbiamo ricercato in tutti i supermercati, non credo che me ne siamo sfuggiti altri, è l'unico senza coloranti, quindi è piuttosto preoccupante, come IGP, infatti noi consigliamo, se dovete comprare, o comprate questo, ma non è che costa poco, ma alle volte è in offerta, oppure comprate, se volete andare un po' più tranquilli, il DOP, l'origine protetta vi garantisce di più dell'IGP, però ecco, quindi il Ponti abbiamo fatto soltanto un riferimento, ho voluto mettere un esempio, il Ponti non è l'unico che contiene il 150D, praticamente quasi tutti gli aceti balsamici IGP sul mercato contengono il 150D, quindi se voi leggete il 150D, alle volte non è neppure riportato il 150D, alle volte è riportato il solfitto ammoniacale, che è la stessa sostanza. Quindi è stato proibito in California questo additivo, costringendo la ditta a usare il normale calamello è 150. Ora vi faccio vedere un esempio, vi faccio vedere un esempio andando a vedere l'ICHA di riferimento, ora io qui già ho salvato il numero di CAS, già l'ho salvato per cui in automatico mi entrerà dentro, quindi sta già nel motore di ricerca, altrimenti voi mettete un daffetto nell'autorizzo i dati, se no non ve lo può fare, poi mettete il numero di CAS, la via ricerca, vi da il prodotto, cliccate ancora sul prodotto e vi esce quello che adesso andremo a vedere. Questo è l'ICHA, la vostra bibbia tra virgolette, quello su cui dovete principalmente andare a lavorare per trovare le sostanze, se ci sono sostanze tossiche in questi additivi. Quindi questo 4-metil-mitazole, se andate a vedere, ecco guardate lo mettiamo anche con traduzione in italiano così per tutti quanti, legge A, dove è? Traduci sezione in italiano. Allora, pericolo, secondo la classificazione fornita dall'azienda ICHA nelle registrazioni RIC, quindi la legge di riferimento è la RIC, questa sostanza provoca gravi ustioni cutanee, è il danno agli occhi, è molto tossico, la vita acquatica, è dannoso se è gerito, è nocivo a contatto con la pelle ed è sospettato di causare il cancro. Allora, è importante in molti motori di ricerca, troverete allegato 3, allegato 3 è un altro dato importante che dovete riconoscere, significa che è sospettato, sospettato cioè ci sono degli studi che hanno individuato che può essere genotossico, che può essere cancerogeno, normalmente quando sta scritto sospettato è cancerogeno, questo chiaramente ve lo dico fuori dalle righe chiaramente, perché magari, non so, un pochino faccio l'esempio, scusate vi faccio una breve parentesi sui pesticidi, torno un attimo sui pesticidi, il glifosato, il famigerato glifosato della Randap, il glifosato è stato per la millinesima volta rinnovato, perché chiaramente se l'Arche sostiene che il cancerogeno è genotossico, invece magari l'ente europeo di riferimento, per andare in conto alle punti nazionali, sovventemente, vuole dirlo, rinnovano questo pericoloso prodotto, anche perché andando a bloccare il glifosato si va anche a bloccare gli stessi OGM, a cui sono direttamente legati, non si possono più fare determinate coltivazioni, quindi che si possa arrivare a abitare il glifosato in Italia la vedo molto difficile e c'è una scarsa sensibilità sull'argomento. Per non parlare poi ci sono i metaboliti, i metaboliti di cui nessuno parla, che sono delle sostanze che si sviluppano dalla sostanza principale, anche dello specifico del glifosato, che è ancora molto, ma molto più potente, più pericoloso, dello stesso glifosato. Il metabolito si sviluppa dopo che avete dato il glifosato, le arpa di riferimento quasi mai, se non dire mai, cercano i metaboliti. Allora, torniamo alla slide, andiamo avanti che abbiamo tanta roba da vedere ancora, coloranti azoici, qui abbiamo un'altra parentesi importante, coloranti azoici uguale, senza andiamo adesso ad entrarci nello specifico chimico, azoici dovete ricordare che non sono naturali, per certo sono coloranti di sintesi, manco estratti a livello chimico, di sintesi, cioè non esistono in natura e li hanno realizzati. Sono passati 15 anni da un studio che in qualche modo ha messo all'armi consumatori e scienziati rispetto all'impiego dei coloranti azoici, 5 volti più economici da produrre, quindi torniamo sempre al discorso non di andare in conto alla salute, ma agli interessi dei multinazionali, quindi voi se siete dei consumatori consapevoli trovate dei coloranti azoici, il prodotto non lo comprate. E questi coloranti azoici sono praticamente quasi sempre presenti proprio per i prodotti dei bambini, magari dipite analcoliche per dirne una, sono presenti lì e sono quelli che vanno per incidere più negativamente per la salute dei vostri bambini. Ecco, producono iperattività dei bambini e anche deficit di attenzione. I coloranti 102 della tartarzina, che dopo andremo a fare degli esempi specifici, l'E 104 è giallo di chinovina, l'E 110 è giallo arancio S, l'E 122 è la zorupina, prendete riferimento e concentratevi su quello che vi sto dicendo adesso perché tra breve andremo a vedere un esempio di pubblicità ingannevole, che è un reato, ripeto, sanzionato a livello penale, che però nessuno lo fa presente, adesso noi chiaramente tempo a tempo faremo queste denunce. E 124, il famoso rosso cocciniglia, da non confondere con l'E 120 naturale. Ora, l'E 120 naturale è l'estratto della cocciniglia, o meglio, l'estratto di quello che la cocciniglia elabora, non è andata a mangiare l'insetto, se non per qualche contaminante, che è un'altra cosa. Ma l'E 120 è naturale e crea sempre dei problemi di attenzione del bambino, ma è naturale ed è forse uno dei meno problematici. Mentre l'E 124 rosso cocciniglia è quello sintetico, quello creato in laboratorio ed è molto pericoloso, orpene. Questi fenomeni delle punti nazionali, di queste bibite che adesso avremo a vedere molto famose, hanno tolto il rosso cocciniglia naturale e quindi voi mi direte, meno male, andiamo a vedere se è veramente da esserne felici. Allora, prima, ecco qui, esempio di pubblicità ingannevole. Andiamo a vedere con quale colorante hanno sostituito l'E 120. Quindi abbiamo a che fare con l'Aperol che ha messo l'E 124. L'E 124 che cosa produce? Può influire negativamente sull'attività dell'attenzione dei bambini. Quindi ci deve essere scritta, ci deve essere la dicitura. Quindi quando voi la trovate scritta, non compratelo. È sempre scritto molto piccolo, ma ci deve essere scritto. È stato vietato in Austria, Norvegia e Australia. Scusate che non stavo vedendo l'E 124. L'E 124 può causare iperattività, asma, orticale, insonnia, si segnano casi di cancro riscontrati da alcuni animali di laboratorio. L'E 122 può influenzare negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. Questa dicitura, per tutti quanti i coloranti azoici, quindi di sintesi, ci deve essere scritta per legge questa dicitura. Un po' che so, il fumo nuoce alla salute, deve essere scritto. E voi lo trovate scritto, ma chi è che va a leggere? E poi nelle feste puntualmente andate a dare quella bibita che è analcolica, quindi non può far male il vostro bambino. Invece magari è addirittura cancerogena, oppure gli produce dei problemi neurologici. Il Campari, il Campari Soda, contiene l'E 122. L'E 122, anche questo ci deve essere scritta, quella obbligatoria può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. E' stato evitato in Austria, Norvegia e in Australia. E' tra gli etrogeni pericolosi per la salute dell'uomo, specialmente per gli intolleranti e a farmaci contenenti acido acesa di cilico, quindi l'aspirina, o persone che soffrono di asma essendo un liberatore di stamina, quindi può creare le problematiche di allergia. Questo inoltre è un sospetto mutageno, quindi va a modificare il DNA. E' persistente nell'ambiente. E' C-H-A, che cosa vedete dopo? Allegato 3. Allegato 3, che vi ho detto, significa che è sospetto. Quindi di tutti questi, ah però lo contiene l'E 124. L'E 124, che è quello che dicevamo prima, torniamolo a vedere un attimo. L'E 124 che cos'era? Era il rosso cocciniglia. Ma quale desintesi? Quindi hanno tolto l'E 120, che comunque crea dei problemi ai bambini, ma lo hanno sostituito in questi furboni. La gente ormai, quando vi dico, siete voi che fate il mercato. E torniamo come l'esempio dell'olio di palma. Voi non trovate olio di palma e comprate tranquilli. E ci trovate l'olio di colza, che è peggio ancora. La stessa cosa qui, non trovate l'E 120, magari ci sta scritto bene grosso, non contiene l'E 120, che sapete essere la cocciniglia naturale e andate tranquilli e lo comprate, no? Perché trovate quello di sintesi che è peggio ancora, che addirittura abbiamo visto essere addirittura cancerogeno. E va a finire poi i vostri bambini, insomma. Quindi vi stavo dicendo, questo è diciamo i coloranti, quindi diciamo pericolosi, li trovate nell'Aperol, nel Campari Soda. Il ginger è l'unico che possiamo comprare senza problemi per i nostri figli. Contiene la carota nera è l'estratto di cartamo, quindi qui andate tranquilli. Il Campari lo tiene ancora le 122, il Martini Rosso le 150, che è il caramello, quindi anche questo tendenzialmente potreste andare tranquilli, in quanto è un colorante naturale. Poi è chiaro che se non ci sono i coloranti è meglio. Poi il Saint-Pierre le 122. Alcuni coloranti, adesso io premetto, quindi non li portati solo una parte, perché anche vedo non hanno gli altri troppo, ma in realtà provate a immaginare il triplo anche in quattro volte, ma trovate tutto questo nella nostra pubblicazione sul sito www.europeanconsource.it, andate in pubblicazioni scientifiche e trovate tutti, tutti almeno i più importanti li abbiamo ricordati. Ora io ho riportato una parte, solo una parte, di quelli dei coloranti mutageni, cancerogeni e genotossici. Allora, l'E100, l'E100 è la curcumina, quindi voi dice, beh la curcuma è naturale, andiamo tranquilli. L'E100, la curcumina è il sospetto cancerogeno e mutageno. L'E101, la riboflavina è genotossico. L'E101, riboflaina 5-fosfato genotossico. L'E102, la tartrazina. La tartrazina è poi, io ho fatto degli esempi commerciali, quali sono alcuni, anche il cuore che contengono la tartrazina e che sono sospetti carcerogeni e mutageni, quindi la tartrazina è molto pericosa. L'E104, il giallo di chinolina, cancerogeno e genotossico. L'E107, giallo 2G, sospetto mutageno. L'E110, sospetto carcerogeno. L'E120, cocciniglia, pericoloso per i bambini. L'E122, azorubina, sospetto mutageno. L'E123, amaranto, sospetto carcerogeno-mutageno. Il suo utilizzo, ecco, vediamo a quello che vi stavo dicendo prima, ovvero sia il 123, amaranto, che vi dicevo che i coloranti non sono permessi nei prodotti ittici, ad eccezione, ad esempio, oltre che del caviale, oltre che del salmone, che vi dicevo prima, anche del caviale e relativi succedanei del caviale, ok? Quindi questa è presente, lo potete trovare, e deve essere scritto comunque per legge, che è l'E123, amaranto. Se trovate questa sostanza, lasciatelo lì, perché è sospetto cancerogeno e mutageno. L'E124, rosso cocciniglia, sospetto cancerogeno e mutageno. L'E127, eritrosina, sospetto mutageno. L'E133, brilliant, blue, FCF, sospetto mutageno. Ma questo perché? Perché le persone sono abituate a vedere, magari vogliono vedere una cosa brillante, perché so, un pesce luccicante, no? Che sia come uscito appena dato al mare. E quello è il problema, che la gente non... gli piace vedere una cosa bella, stessa cosa per la frutta o comunque altra cosa. L'E150D che abbiamo visto, gramello, sospetto ammoniacale, c'è un sospetto cancerogeno. Quello che vi dicevo prima, l'E171. Questo, ci apriamo una piccola parentesi, perdonate, l'importante, biossilitaneo, sbiancante e genotossico, secondo l'Exa, bandito in Europa dal 7 agosto 2022. Un nostro risultato. Siamo stati noi a palomitare. Grazie. Però, ma in grado l'abbiamo fatto vietare, la legge... no, no, è stato... non viene più prodotto. Però noi riteniamo, anche perché abbiamo fatto i nostri controlli, diciamo la legge sempre un po' permissiva, nel senso fino al suo alimento scorte, per cui insomma diciamo lo potete trovare ancora nei bancali, diciamo, quindi prestate sempre attenzione. E' quasi sempre presente i prodotti per bambini. Scusa Marco, ma la curcumina non ho capito perché è così, insomma, sospetta? La curcumina non è il principio attivo della curcuma. Parliamo sempre di prodotti che sono estratti a livello chimico. Cioè la curcuma di per sé io la uso molto in cucina ed è anche un potente antinfiammante, antinfiammatorio. Cioè fa bene, fa tutto. Abbassa addirittura il diabete B, per capire. Cioè quindi è risolutoria. Addirittura io avevo una ferita, una gamba che non mi chiudeva e ho messo, perché è un potente antibatterico, l'ho messo sulla ferita e la ferita si è chiusa. E 180, litorbulina BK, sospetto cancerogeno. Quello che vi dicevo, l'E 180, che è quel colorante che potete trovare sulla crosta del formaggio. Allora, E122 Azorubina, questo è presente nel Campari, nel Campari di Milano, che poi di Milano non è affatto di Milano perché il Campari è rimasto solo il nome di Milano perché non è più italiano. L'E122 Azorubina può influenzare negativamente, come abbiamo visto, quindi parliamo sempre di quei coloranti azoici, quindi di sintesi che parlavamo. L'E102, che è la tartrazina, che oltre ad avere queste problematiche per i bambini, ha un sospetto cancerogeno e mutageno, ha un sospetto rischio di cirrosi, degli ebiliari, primari delle donne in post-menopause, induce neurotossicità e deficit d'apprendimento di memoria, alterazioni histologiche cellulari nei tessuti del fegato e dei reni, l'uso della tartrazina è prebito in Austria, Svizzera, Finlandia e in Parveggia e in Italia come al solo è ancora consentito. Potete trovare, faccio un'altra parentesi perché voi siete del Campari, potete trovare la tartrazina, anzi è presente sempre la tartrazina, anche la crema stock, anche lo stock non è più italiano, non so se era nato a Trieste se non sbaglio, anche lo stock è stato venduto e come è stato venduto, perché prima non c'era questa sostanza, è stato inserito l'E102, la tartrazina, ok? Quindi che abbiamo detto che praticamente è sospetto di essere cancerogeno e mutageno, molto pericoloso, è presente nella crema, lì non c'è, crema lì non c'è, non nel prodotto che non è una crema, c'è limon c'è quello diciamo crema e quello non crema, quello tutto giallo per capire, mi piace vedere quel bel colore giallo, no? E quindi pagate le spese a livello di salute, però se voi andate sul sito della stock vi fa vedere, addirittura c'è la pubblicità dei limoni siciliani, quindi fa vedere, belli limoni siciliani, è una cosa bella, poi non si capisce bene la Sicilia dove sia, visto che il prodotto non è più neanche italiano. L'E133 deriva dal liquido della distillazione del carbone per ottenere il COC, secondo alcuni studi potrebbe essere dannoso per i bambini durante l'infanzia e quindi sconsigliato la somministrazione di alimenti contenenti tale colorante, può causare iperattività, nausea, orticaria e insonnia, è stato riscontrato che in concettazioni diciamo si elevate e crea problemi è un sospetto potageno. I conservanti antimicrobici esenso, conservanti qui sono degli antimicrobici esensi del DM27-0296, queste categorie sono comprese gli antimicrobici e gli antiossidanti e molti conservanti diciamo sono considerati dei grass, che tecnicamente, grass significa che sono tecnicamente sicuri, mettiamo tra virgolette quanto lo possano essere, ma diciamo i grass sono i più sicuri. L'acido benzoico, quando leggete l'acido benzoico e i solfiti già dovete fare più attenzione, l'acido benzoico nello specifico, i solfiti se sono presenti in più alte concentrazioni, in più prodotti, perché diciamo abbiamo delle difese naturali del nostro organismo in grado di trasformare questi solfiti, ma quando sono troppi poi vanno ad accumularsi e possono diventare cancerogeni, questo almeno quello che dice lo IARC, lette di riferimento. Altrimenti si trasforma, l'organismo lo trasforma in solfitossidasi e lo neutralizza. Alcuni conservanti, mutageni, cancerogeni e gerodossici, direi di andare avanti su questa schermata che mi sto a leggere tutti, però ecco, uno è importante, uno è importante di tutti, vi faccio un esempio, poi questi ripeto li trovate tutti sul nostro sito, però uno è importante da sapere. Allora, l'E211, il benzoato di sodio che è presente in varie bibite e non soltanto, in che modo può diventare addirittura un potente cancerogeno? Ora, molti di voi, chi è che non avrà fatto magari qualche bibita, ci avrà addizionato, perché no, un po' di limone che contiene vitamina C o un po' di arancia? Ecco, quello che molti non sanno che in normali bibite di frutta, che contengono l'acido benzoico, se voi ci aggiungete la vitamina C, diventa cancerogeno. Allora, andiamo avanti, comunque questa è una vasta vista di coloranti che dovete conoscere, che quando li trovate, ripeto, sono tutti quanti i mutageni, i cancerogeni e i gerodossici, quindi evitateli. Entriamo su un altro prodotto commerciale molto conosciuto, della Citerio, premetto, io faccio vedere queste immagini, ma così come per la Citerio ci sono numerosi altri prodotti di questa tipologia, che anche se magari non è Citerio, è un'altra marca, contengono sempre sostanze additivi che possono essere pericolosi. E ribadiamo che sono comunque sostanze consentite dalla legge in certi percentuali, prodotti, però l'EFSA, da ripetere, non tiene in considerazione il discorso del più accumulo di ogni singolo prodotto e di quel prodotto insieme con gli altri prodotti. Faccio un esempio, se voi andate a prendere dei solfili che sono presenti all'interno dei salumi, per dire che è una, se non ne mangiate molti di salumi, a volte li fanno male per altri motivi, ma insomma, non ne mangiate molti, i solfili ne mangiate di meno, ma se poi magari ne vede anche il vino, e anche nel vino è presente i solfili, e nel vino bianco anche in concentrazione maggiore rispetto al vino rosso, e quindi questi sono tutti i fattori cumulativi di cui il regolamento europeo non tiene in considerazione. Ora, l'origine della materia prima di questi Citerio, ci tengo a precisare, perché nel Citerio nel brand ufficiale c'è un bel tricolore, anche lì forse è un po' di pubblicità ingannevole, perché appena un po', perché dice origine della materia prima, UE, se è UE, state tranquilli se non avrebbe promesso Italia, è vero che noi siamo nella UE, ma sicuramente non è Italia, quindi l'86% del prodotto non è italiano. Contiene l'E450 che aumenta il livello di fosfato delle pareti dei bassi sanguigni che costituisce un fattore di rischio cardiovascolare, nei casi di insufficienza renale, compromette la funzionità renale da moderato a grave. L'E451 sottrae il calcio all'organismo, il 250 nitrito di sodio è potenzialmente pericoloso perché può reagire con le ammine, formando nitrosamine cancerogene. L'assunzione di elementi contenenti nitriti provoca naturalmente riduzione degli infociti T e B che comportano abbassamento delle difese umanitarie a livello morale e cellulare. Non deve essere associato con l'acido sorbico e sorbatico, cui forma sostanze mutagene e questo è spesso un elemento che torna. Quindi abbiamo i correttori di acidità e antiossidanti che sono presenti in oli vegetali, grassi animali, sperzi e frutta secca. Poi sulla frutta secca si aprirebbe tutta un'altra parentesi, un altro mondo, cioè sulle pericolosità di afla e ocratossine. Anche lì abbiamo fatto numerose pubblicazioni scientifiche sulle afratossine e ocratossine che sono pericolosissime per la salute, veramente molto pericolose. Abbiamo visto anche in me con le allerta RASP, abbiamo fatto i nostri grafici, li abbiamo su assi cartasiani, li abbiamo ricostruiti e le allerte RASP sulla presenza di ocratossine e di afla tossine, presente ad esempio nei figli secchi, la frutta secca in genere, non compratela, almeno questo è il nostro consiglio, poi fate come potete, ad esempio proveniente dalla Turchia, per lo più quella tutta che trovate sui banchi, insomma, no? Come potrei anche dire sul pesce, evitate il pesce spagnolo perché hanno altri tipi di allerta, i discorsi sono piuttosto complessi. Correttore di acidità, quindi questi abbiamo tutti quelli che sono antiossidanti, mutageni, cancellogeni e genodossici, li trovate qui, quindi possiamo andare avanti. Facciamo un altro esempio commerciale, Conad, i gnocchi di patate, buoni i gnocchi di patate, magari se li fate voi a casa vostra è meglio. Allora, cosa contiene, questa è una cosa che ho scoperto io, così andando in giro per i supermercati, contiene l'E304 che è il palmitato di ascorbide, sospetto cancerogeno e CHA adegato 3, adegato 3 come abbiamo visto è un sospetto, potrebbe favorire la formazione di calcoli alla vescica, poi abbiamo l'E223 che è il metasolfito di sodio, nocivo per ingestione, provoca gravi tensioni oculari, può provocare migrani, asma, reazioni allergiche, difficoltà respiratorie, tosse e debolezza, inattiva la vitamina B1 delle carni e causa il suo effetto ossidante, eccetera, eccetera. Andiamo avanti, poi il 450 birofosfato, acido di sodio, secondo la classificazione delle CHA, di cui il motore di ricerca vi ricordo, provoca gravi irritazione oculare, provoca irritazione cutanea e può causare irritazione respiratoria. Siamo di accumulo. Sì, ripeto, queste sono sempre, le sostanze per l'EFSA sono, diciamo, di legge consentite, quindi è chiaro che nel tempo, se voi mangiate gli occhi dalla mattina alla sera, forse non vi fanno tanto bene, però noi siamo nell'avviso come associazione di difesa dei consumatori che, visto che siamo noi che facciamo il mercato, la presenza di questi additivi puntualmente vanno a favore delle aziende che li usano, magari per conservare più a lungo il prodotto, magari per dargli un aspetto migliore, ma certamente non per la nostra salute, quindi se sono presenti queste sostanze che poi magari i nostri bambini per peso specifico possono creare dei danni sicuramente maggiori, anche nella tenera età, noi siamo nell'avviso che se troviamo questo tipo di sostanze è bene non comprarli. Parlo per una scelta di campo, potete capire che queste cose non vogliamo, insomma. Passiamo a un'altra marca famosa, la Bondwell. Ora la Bondwell, io do un plauso alla Bondwell, anche perché molti prodotti della Bondwell, come ad esempio il mais, c'è scritto senza OGM, quindi insomma positivo, anche io spesso compro Bondwell, diciamo se non ho proprio prodotti biologici sotto mano, però abbiamo scoperto che la Bondwell ha proprio recentemente messo sul mercato questi borlotti che noi sconsigliamo di comprare, anche perché magari adesso li mettono qui, poi magari li mettono anche da qualche altra parte, hanno inserito due additivi nocivi per la salute, l'E385 che ha il calcio di sodico e età, rimuove i metalli dal corpo, può facilitare l'insorgenza di anemia, nocivosi inalato, può provocare danni agli organi, che è una cosa grave, in caso di esposizione prolungata e ripetuta, 509 provoca grave irritazione agli occhi. Ora chiaramente sostanze che voi le dovete mangiare, l'irritazione agli occhi è relativa, insomma, però invece una sostanza va a occuparvi i metalli dal corpo o ancora addirittura va a danneggiare gli organi, queste sono cose gravi. Un altro fenomeno, un'altra cosetta particolare, l'Elementos, questo è veramente un prodotto da evitare, risultato cancerogeno, quindi non è, diciamo, non è sospettato, è risultato cancerogeno, è un'altra cosa, dal 1991, però come vedete è in vendita, e soprattutto soprattutto queste Elementos, chi è che non le comprendono i bambini, quindi diciamo l'E320, che è il butili idrossiani solo, quindi è risultato cancerogeno, ripeto, dal 1991, inoltre è sospettato di nuocere alla fertilità e o al feto, contribuisce a alimentare i livelli di colesterolo ematico e dei limiti nel sangue, favorisce la formazione di enzimi gastrici nel fegato, provocando la distruzione di altre sostanze, come la vitamina D, che è molto importante, la vitamina D, soprattutto per le persone anziane che tendono un pochino ad assimilarla meno. Questo additivo non si può aggiungere a prodotti per le infanzi ed è anche sconsigliato per le donne in gravidanza e per le nutrici, in combinazione con le varie concentrazioni di vitamina C, può produrre radicali liberi responsabili di danni ai componenti cellulari, bandito in Giappone. In Italia lo comprono tutti, noi siamo molto intelligenti. Sì, ma soprattutto i bambini, cioè, che cosa? Non c'è una lista di quello che si può mangiare, ma ce l'ho voluto. Ma io ripeto, siete voi che fate il mercato, se voi non li comprate, li lasciate lì. Ma io che non adoro questi prodotti, sono normale. Allora, guardate, gli additivi non sono consentiti nel biologico, quindi già quella è un'indicazione di riferimento importante. Allora, addensanti, emozionanti, gelificanti, umificanti. Gli addensanti sono additivi alimentari, altre a migliorare alcune caratteristiche fisiche del prodotto, li trovate presenti in botini, salse, sottilette, zuppe, piatti pronti, sul gelato, yogurt. Cercate, se vi posso dare un consiglio di massima, per andare un po' tranquilli, di non prendere prodotti, diciamo, elaborati, che sono quelli dove veramente potete trovare dentro di tutto. Faccio l'esempio, se voi prendete delle sottilette, a prescindere che possano contenere o meno sostanze dannose per le ossa, che tolgono calcio alle ossa, a prescindere da questo, se contengono i polifosfali, non vi deve interessare. Sappiate che tutti i formaggi fusi non hanno filiera, cioè non c'è, non troverete mai su un formaggio fuso, se è dopo che so io, lì dentro ci finisce di tutto. Non si sa bene che tipo di formaggio ci sta dentro, per chiedere, tutti i formaggi fusi, dalle sottilette ai formaggini, per chiedere. Posso leggereci un po' una cosa? Prego. Allora, qui c'è scritto emulsionante, lecitina, girasole o soia, poi c'è scritto agenti lievitanti, difosfato di sodio, carbonato, acido di sodio, addensante, gomma di guar, emulsionanti, mono e di gliceridi, degli acidi grassi e lecitina di girasole, sale e aloni. Diciamo, nel massimo, tutto un insieme di cose che poi si possono sommare, tendenzialmente sono tutti i prodotti che possono provocare allergia, sono degli allergeni essenzialmente e aggiungo anche che l'olio di semi, che magari qualcuno può prediligere l'olio di semi, rispetto rispetto ovviamente a un olio di gozza o di palma, anche l'olio di semi, quello commerciale, salvo non diversamente espresso, viene estratto in maniera chimica e quindi lo stesso olio di semi può presentare delle impurità pericose per la fonte. Addensanti, funzionanti, gelificanti, humidificanti, sospetti cancerogeni, abbiamo l'E407 nella cara genina, sospetto cancerogeno e l'E432 e l'E436, l'infiammazione intestinale cronica causata da questi funzionanti potrebbe infine favorire la comparsa del cancro del colon. Ora, oltre al 432 e 436, vorrei aprire una parentesi sulla cara genina, che ad esempio ve lo faccio vedere subito al volo, abbiamo la parmalat che se volete sul sito della parmalat vanta, come se fosse una cosa buona, la cara genina che dice, e d'altronde è solo una alga rossa, quando torniamo a questi prodotti alimentari, che non è detto perché siano alimentari naturali, necessariamente non possano andare bene. Ora, la cara genina, noi abbiamo fatto degli studi approfonditi sulla materia, non è pericolosa? Assolutamente no, andate sul sito, ne parla quasi, un po' come fa la Ferrero della Nutella che parla dell'olio di palma, bene, ecco, che praticamente non distrugge le foreste, non indurisce le arterie, fa bene alla salute. La stessa cosa fa la parmalat per la cara genina, che in realtà è sospettata di provocare il cancro, provoca gravi irritazioni oculari, è sospettata nello specifico di provocare ulcere intestinali, allergie, neoplasie intestinali e quant'altro. Quindi, insomma, non è da prendere, e questo è presente, a prescindere dalla parmalat, in quasi tutti i prodotti che voi trovate di panna montata, panna montata, panna spray, tutte queste cose qui. Panna della centrale, li vedi? Basta leggere l'etichetta, se lei non ci trova scritto caraggianina va tranquillo, insomma. Sì, normalmente è difficile che ci sia, insomma, ecco. Anche perché è fresca, praticamente, dopo due giorni. Esatto, certo, certo. Allora, poi andiamo a vedere un altro fenomeno particolare. Le persone da pubblicità incannevole vanno a vedere Vita Snella, Vita Snella, si sentono già più leggere, già vanno in giro. No, noi ce l'ha detto Alessia Marcuzzi, no, non era Alessia Marcuzzi, ma Vita Snella, non so. Ecco, cosa, no, no, perché no, questa è pubblicità incannevole, anche piuttosto grave. Se voi andate a vedere il sito della Danone, trovate tutta pubblicità che dove fa vedere i bambini contenti che corrono, portare la salute attraverso l'alimentazione al maggior numero possibile di persone. Questa è la mission di Danone, con un'offerta unica dei prodotti che rispondono ai bisogni specifici per tutte le età della vita. far vedere i bambini, no, saudari, sostenibili. Se voi andate a vedere il sito, addirittura ci hanno delle certificazioni importanti per dichiarare che è ideale per i bambini. Vediamo se è veramente ideale per i bambini, insomma. Allora, contiene l'I407, che è ottenuto da due alghe rosse dell'Atlantico settentrionale, è sospettata di provocare il cancro e provoca gravi irritazioni oculari, è sospettata di provocare ulceri intestinali. Alcuni ricercatori sostengono che le caragerine possano provocare anche allergie, debolire il sistema, quindi abbiamo sempre a che fare con le caragerine, che abbiamo visto già nella panna. Poi, G120, estratta da insetti parassidi, del Catius, Lopulsia, Fibus, Indica, sono stati descritti casi di allergia coerante 120, che è un coerante naturale, ma comunque provoca delle allergie, pericoso per i bambini. E il 950, alcuni studi ritengono che possa danneggiare la tiroide e favorire forme di cancro, che è l'acetocetamide, che è sempre contenuto in questo VitaSnella, sostanza che viene prodotta durante la sua scomposizione e altera il biome intestinale dei topi. Questa è la ricerca dell'Atlantocidolo. E il 950 viene ottenuto dalla sintesi chimica a partire dal saccarosio, l'ERC ha identificato un rischio di sovraesposizione per i più giovani. Poi gli stabilizzanti, abbiamo visto come funziona, andiamo avanti, perché veramente c'è tanta roba ancora da vedere. Questi sono gli anti-agglomeranti stabilizzanti, i distabilizzanti e gli anti-agglomeranti sono una sottocategoria degli stabilizzanti. E qui sono riportati tutti i genotossici, i nordossici e i cancerogeni, che li potete poi andare a verificare. Ecco, diciamo, qui riporta anche i neurotossici. Quindi sappiate che gli anti-agglomeranti, adesso vi andremo a vedere un esempio specifico che potete tranquillamente evitare, perché c'è quello che non lo contiene, dipende da voi, se guardate l'etichetta, lo prendete e vi fate male. Non guardate l'etichetta, lasciatevi il prodotto e prendete quello che non la contiene. Ad esempio il sale iodato. Il sale iodato è quello che normalmente contiene questa sostanza, adesso andiamo a vedere, che è molto pericolosa. Il sale iodato, normalmente, ve lo dico, io tra i miei consulenti, con cui abbiamo fatto la pubblicazione, uno è Piero Massimiliano Bianco, che lavora presso l'ISPRA, per cui è un ricercatore dell'ISPRA, quindi non è proprio l'ultimo arrivato, e l'altra è Marina Mariani, che ha insegnato anche la materia, è esperta nel settore della nutrizione e ha fatto anche numerose pubblicazioni, spesso sta anche in televisione, e con lei abbiamo visto tutti questi additivi, e quindi anche lei sostiene che il sale iodato fa male a prescindere, quindi evitato, lo separato dovete prendere un po' di chiodo e ve l'andate al mare. Oltretutto nel sale iodato potete trovare questa sostanza che adesso andremo a vedere. Qui avete trovato che negli altri agglomeranti, oltre a essere genotossici e cancerogene, abbiamo visto che sono neurotossici. Che significa neurotossici? Significa che possono ad esempio, anzi lo hanno dimostrato, provocare l'Alzheimer. Quindi non è vero quando vi dicono spendete soldi per la ricerca, perché non si sa l'Alzheimer come viene. Si sa, non voglio se si sa. Anche il Parkinson come viene. Il Parkinson ad esempio viene, qui si apre tutto un altro capitolo, sui piretroni che vengono errorati nelle città, anche i guerrieri, e che permangono, non è che voi chiudete le finestre e poi le riaprite e non ci sono più. Che contro i policidi, contro le zanzare, i piretroni, su questo ho fatto, sono stato anche consulente presso il Comune di Roma a parlare di queste cose, e sono molto pericolosi. Fanno vedere le malattie più invalidanti, dall'autismo, al Parkinson, al diapete, tutti gli altri elementi. Cioè per ammazzare le zanzare? Ma in realtà c'è uno studio dell'ISPRA molto attendibile, quindi l'ISPRA è quello che fa riferimento poi al Ministro dell'Ambiente, che noi stiamo parlando di una cosiddetta. Tutte le arpe in Italia mandano i dati in ISPRA, l'ISPRA li elabora e poi li manda al Ministro dell'Ambiente. I dati dell'ISPRA sostengono che questi policidi attraverso i piretroidi, come deltametrina, cipermetrina, tetrametrina, piperinbutossido, che è un caldovante che li lega, e che sono pericolosissime alla salute, queste sostanze vanno a colpire soprattutto gli antagonisti, quindi vanno a colpire quelli che mangiano le zanzare, dai pesci ai coleotteri, alle rondoni, i rondoni che sono proprio degli squali considerati delle zanzare, quindi se mangiano tantissime, ancora di più dei pipistrelli. Quindi insomma, vanno a colpire invece gli antagonisti, e quindi dopo che vengono fatti questi trattamenti, aumentano le zanzare, non diviscono. E aggiungo pure che la zanzare può diventare resistente a queste sostanze, e quindi anche più pericolosa, e non ultimo va a colpire come bersaglio lo 0,1% della popolazione, dati di ISPRA, quindi non lo uccidono. Ma loro fanno ricerca, non è bisogno fare denuncia, fanno ricerca, ma hanno dei dati che il ministero dovrebbe insomma... Attenzionare quantomeno sul principio di precauzione, ma non lo fanno. Allora, andiamo avanti, vedete questo qui, questo anti-eclomerante, stabilizzante e chelante, che è sia le 535, questo è molto importante, vedetelo, anche se voi perdete il sale chiaramente, ferocianuro di sodio, è letale se ingerito o inalato, e l'E536 ferocianuro di potassio, il più accumulo è inemigrabile, dal momento che il sale di odato è sempre più frequente nella maggior parte dei prodotti alimentari. In Gran Bretagna l'aggiunta di questo anti-eclomerante, quindi anche l'eclomerante lo lascia fluido per capire, nel sale da tavola è vietata. Nota che queste sostanze sono tossiche, se assunta allo stato puro, autorizzate solo in piccole dosi, 25 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo, che chiaramente per i bambini diventa un discorso ancora più sensibile, in base al peso corporeo. E chiaramente, questo torniamo sempre al discorso che l'exa non fa riferimento al discorso del più accumulo del tempo. esaltatori di stabilità comprendono una grande famiglia dei glutammati, derivati dall'acido glutammico e amminoacido di diffuso in natura, possono avere numerosi effetti dannosi, ad esempio sulle ghiandole e la rivoluzione. Andiamo avanti, questi sono gli esaltatori di stabilità genotossici, mutagini e cancerogeni. Quindi sappiate che non solo sono genotossici, mutagini e cancerogeni, ma sono la maggior parte degli esaltatori di stabilità sono di origine geneticamente modificata, sono OGM, e quindi con tutti i punti interrogativi i vincore lati. Andiamo a vedere quindi uno di questi esaltatori di stabilità che è presente in un voto commerciale molto famoso come la Simental, ovviamente non è l'unico. L'S-121 è glutammato monosodico, in passato è estratto in maniera naturale, adesso è OGM, e per un'esposizione eccessiva due persone manifestano fenomeni allergici di mal di testa, capogiri, bampate di calore, e sospettò di essere tossico per le cellule e causare anche episodi di stato confusionale, fenomeni asmatici, in altri tossi può interferire con i neurotrasmettitori e danneggiare le funzioni cerebrali, sospettare di sinergia con altre sostanze e di provocare l'ipertensione, favorire l'aumento del tasso ematico di colesterolo, l'Unione Europea ne esclude l'impiego degli alimenti per le infanzia, quindi non date da mangiare mai i vostri bambini da Simental, Simental e insomma i prodotti analoghi, ovviamente. Agenti di rivestimento, cere e i loro derivati, andiamo avanti, agenti di rivestimento, mutagini, cancerogeni e fatali, fatali, penso che chi è che non capisce questa terminologia, e comunque molti sono stati vietati a livello europeo, quindi non sono vietati, comunque sono sospetti di essere cancerogeni, ad esempio l'E926, il clorobiossido, è una sostanza mortale, se no è nata tossica se ingerita, e altre sono stabilità, e comunque andiamo avanti, agenti di rivestimento sbiancante per la farina, la famosa farina bianca, 0,0, 0 che sia, agenti di rivestimento sbiancante per la farina, l'E926, il clorobiossido, distrugge la vitamina E, può reagire con altre proteine della farina, la sostanza di per sé è mortale se inalata, è tossica se ingerita, provoca gravi ustioni cutanee e lesioni oculari, e passiamo alle edulcoranti, e qui abbiamo anche una pubblicazione recente, che è stata portata avanti da un'università, che ha definito una volta per tutte, l'aspartame come cancerogeno, quindi non è sospettato, è cancerogeno, e sì, e sì è presente ad esempio tra le Coca-Cola, perché è una per cui, insomma, e non soltanto tra le Coca-Cola, ecco, allora, sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce agli alimenti, o come i tuoranti da tavola, insomma, i più pericolosi che provocano tumori all'appadurinario, linfomi, leucemie, carcinomi, tumori del cervello, d'avvigia la tiroide, sono l'aspartame, la cinzulfame K, edulcoranti, mutageni e cancerogeni, abbiamo qui, come vedete, adesso, ecco, senza aver visto a leggere tutti, l'abbiamo visto, la saccherina, è da precisare, che è sospetto cancerogeno, ma cancro alla vescica dei ratti, quindi non è stato ancora riscontrato sull'uomo, ma in sanità di massima, le sperimentazioni fanno, appunto, tucidopi per poi verificare se fanno bene o male, per la salute. Ora, questa è un'altra di quei prodotti per i bambini, che è veramente molto pericosa, molto pericosa, e quindi gli attenziono a vederla, assolutamente, a evitarla. al cuore di fragola, quindi uno è senza zucchero, ecco, le persone reggono senza zucchero, e magari contengono anche, che so, xilitol, che è anticaria, quindi, insomma, fa venire l'alito buono, insomma, quindi, direi che ci siamo, poi c'è una bella fragola, qui, c'è il cuore morbido di fragola, siamo morti con l'alito buono, e 951, aspartame, sostanza che si prevede, possa soddisfare i criteri per la categoria 1A e 1B, di cancerogenità, mutagenolità, e tossicità per la riproduzione, quindi è genotossico, mutagenico, e cancerogeno. L'abbiamo fatto una bella trivetta, insomma. Non gli manca niente. Poi, le 950, le C-sulfame K, secondo la classificazione fornita dalla società ICHA, nelle notifiche CLP, questa sostanza provoca gravi irritazioni oculare, provoca irritazione cutanea, e può causare irritazione respiratoria. 955, il sucralosio, provoca alterazioni metaboliche ai danni del macrobiote intestinale, identificato in un rischio di sovraesposizione per i più giovani. 341, un eccesso di fosforo, sostrai, calcio all'organismo, induce rettitismo, causa seri danni oculari. E-466, può aumentare la permeabilità intestinale, grandi concentrazioni possono causare problemi intestinali, come gonfiore, ossipazione, diarrea, un consumo regolare di CMC e polisorbato 80, da parte dei ratti, può alterare la forma batterica intestinale, conducendo infiammazioni all'insorgenza di tumore al colon. E-422, in caso di tosse eccessive, si registrano problemi di emigrania e nausea, e-321, è un sospettato di calcirogenità. Per cui in questo prodotto abbiamo concentrato di, tra sospettati e reali prodotti additivi, calcirogeni, e anche mutogeni e genotossici. Per cui, diciamo, abbiamo proprio il clou del prodotto da aiutare. Allora, gli enzimi. Gli enzimi, diciamo, non ci sono particolari problematiche, perché, diciamo, i più pericosi almeno sono stati ritirati dal mercato, anche se ancora qualche cosina di preoccupante c'è, anche perché sono fatti con tecniche ricombinanti, e quindi abbiamo sempre a che fare con problematiche di OGM. Nel 2021, due enzimi sono stati vietati, perché erano, diciamo, presentarono criticità molto importanti per la salute, e sono stati gli alfa amilasi, sicuramente le ricorderete, e il beta-galattosidasi. Questi due sono stati ritirati a livello europeo, però magari potete trovare i prodotti che non sono europei, veramente, quindi fate sempre attenzione. Gli amidi, gli amidi modificati. Modificati non significa che sono OGM, semplicemente sono, diciamo, sempre sul discorso commerciale, che sono maggiormente convenienti per chi li produce, sono estratti a livello chimico, e usano poi delle sostanze, dei residui che possono essere pericolosi. E vengono molto adoperati questi amidi modificati, addirittura che li ho trovati in cioccolate biologiche, dei cioccolate metroni, quelli in cui vi vedo presente, quelli dove fate vedere questi cuochi, proprio che sono molto bravi, insomma, molto rinomati, che producono cioccolata, cioccolata biologica, ecco, proprio estratta dalla pianta, però poi, a proposito della cioccolata, pure sono stati fatti degli studi che tendono a catturare determinati metalli pesanti, come caldo e me piombo, per cui una cioccolata, diciamo, in purezza al 90%, magari non contiene altre cose, ma proprio per la sua capacità intrinseca di catturare i metalli pesanti, anche lì bisogna sapere la provenienza. Un'altra cosa che vi voglio dire al volo, anche se è da quello che sto dicendo oggi, ma credo sia molto importante, sono alcuni prodotti che sono fondamentali da prendere biologici, ma perché? Perché hanno delle capacità intrinseche loro di catturare metalli pesanti, di catturare pesticidi, di catturare sostanze molto da meno della salute, come per l'appunto possono essere, ad esempio, il caldo mio e il piombo, che in concentrazioni anche molto piccole, possono creare danni serissimi alla salute. Di cosa sto parlando? Delle brassicacee. Le brassicacee, ciò che sarebbe a dire, la signora ha fatto così, dice che cos'è? Brassicacee, praticamente stiamo parlando dei cauli, il caulo verza, il bronco di Bruxelles, il non so, tutti, anche la rucola non ha brassicacea, ok? Quindi, diciamo le cipi di rapa, e via dicendo, sono brassicacee. Qual è la loro caratteristica? Per cui è importante sapere, magari se la prendete anche a chilomero zero, o biologiche, o chilomero zero, e dovete sapere, il chilomero zero, se stessa su un terreno è contaminato. Quindi praticamente, sì, ma io vi sto dicendo, nei supermercati, evitate di comprarlo, perché? Vengono impiegati, soprattutto in stati come la Germania, l'America, per decontaminare le discariche, perché hanno una capacità incredibile, sono come delle spugne, di catturare i metalli pesanti nel terreno, quindi se c'è più un boccato, mi svegliono subito, se li assorbisce, se li assorbe, diciamo, no? E una delle, diciamo, delle brassicacee più importanti per la salute, a 360 gradi, anche per curare le ferite, anche per uso esterno, è il cavolo nero, il cavolo nero è il principe di tutti, è veramente miracolosa come pianta, è un potente anticancerogeno, ovviamente se è biologico, se no vi fate ancora più male. Allora, questa prendetela come una pausa, adesso riprendiamo con gli additivi. No, la cioccolata, a me ci sono delle cioccolate, infatti, che fanno male, a parte adesso sono intolleranti ai sorfitti, ma delle cioccolate che fanno male e altre no, quindi evidentemente... Allora, recentemente, non vorrei sbagliare la marca, mi pare la Lindt, mi pare che, diciamo, soprattutto in quella al 70%, è stata fatta una ricerca e hanno trovato delle altissime concentrazioni di, diciamo, di questi metalli pesanti che fanno male alla salute. E un po' di caldo, mi hanno provato anche. Sì, che ancora più, in percentuali, in me, è ancora più preso dal piombo, per cui abbiamo detto tutto. La novi come è? Ah, aggiungo anche, scusate, perché adesso non mi metto a parlare di farine a base di insetti, se no non ne riusciamo più, ma abbiamo fatto la pubblicazione anche su quello e anche sulla cultura su cui vengono allevati questi insetti, perché anche lì c'è una filiera e sorvoliamo. Ma abbiamo scoperto che tra l'un insetti, a prescindere, si comportano come le brassicacee, catturano caldo del piombo. Quindi in alta concentrazione, le farine macinano tutto, vi lascio immaginare. Quindi vi stavo dicendo, gli amidi, torniamo qui, gli amidi genotossici, mutagini e cancerogeni, e ecco, qui vengono riportati, e andiamo avanti, questi amidi genotossici, dove li potremmo trovare? Quale utilizzo si può fare con questi amidi? Perché vengono usati? Ad esempio, il Le 1202 è un sospetto genotossico e cancerogeno stabilizzante del colore, usato per rimuovere i polifenoli dalla produzione delle bine chiare con schiuma stabile. Comunque, questo ci deve essere scritto in etichetta. Grazie a Dio non è un codiovante tecnologico che non sono presenti in etichetta, è un additivo. Quindi, se lo trovate scritto, non comprate la birra. Abbiamo quasi finito. Codiovanti tecnologici non sono presenti in etichetta, quindi ci siamo, siamo arrivati alla parte conclusiva, ho voluto, visto che il regolamento europeo fa riferimento non solo a, diciamo, agli additivi, ma anche ai codiovanti tecnologici che non sono presenti in etichetta, in quanto presenti a livello residuale in piccole percentuali e non vanno a trasformare dell'insieme il prodotto. Quindi, avrei voluto dire altre cose in realtà sugli additivi, ma insomma si è fatto un po' tardi, andiamo avanti. Quindi, questi codiovanti tecnologici non modificano le proprietà organolettiche, ma rendono più lavorabili gli alimenti, migliorando nella consistenza la stabilità. Il codiovante tecnologico dell'alimento finale è presente solamente sotto forma di residuo e non esercita un effetto tecnologico sul prodotto. Per tale motivo non è necessario inserire nella lista degli ingredienti la denominazione dei codiovanti tecnologici utilizzati. La maggior parte dei codiovanti tecnologici sono sostanze chimiche come enzimi, acidi, alcoli o butano. Poi, anche altre sostanze ci sono. Servono come chiarificanti organici e inorganici per bevande alcoliche. Infatti, se voi venite a comprare un vino bianco e vedete tutti gli anni quel vino che è sempre perfettamente di quel colore, perfettivamente, mai che lo trovate un po' turbido, che so io, no? Perché usano questo codiovante che non è presente in etichetta. Magari, adesso sono usciti dei marchi suppletivi, diciamo, facoltativi e anche obbligatori ultimamente per alcuni aspetti, per i solfiti per le donne incinte. Infatti, trovate quello ghetto con la barra, no? Ecco, quindi magari le donne incinte a meno se non li usano perché magari i solfiti sono in concentrazione un po' eccessiva e potrebbero danneggiare il feto. O ancora, potete trovare vino vegan. Vegan perché c'è, diciamo, il vegano che, come sapete, non si alimenta in nessun modo con prodotti alimentari e prodotti animali. Quindi, quando chiaramente gli interessa che lo schiarente presente, perché lo schiarente c'è comunque, ma non sarà uno schiarente fatto con gelatini animali, spesso anche di isulino e cose di questo genere, ma sarà fatto con minerali che servono ugualmente a schiare il vino e quindi, in quel caso, ci sarà il dobbietto vegano. Vengono possibilizzati per aumentare l'elasticità dell'impasto nella pianificazione industriale o permettere la coagulazione del latte e dei formaggi ancora come agenti di distacco in pasticceria come siliconi e olio di vaselina. Cioè, voi andate a prendere la pastella che non si attacca sulle mani, non si attacca sulla carta che c'è sotto, ad esempio, no? Ecco, non ve la ritrovare che dovete fare fatica per togliere quella carta, ma forse sarebbe meglio fare quella fatica che non andate a mangiare il silicone, credo. un'altra cosa che potete trovare come coagulante tecnologico, ci sono delle, anche sulla pasta ci sarebbe un discorso che non finisce più anche la provenienza del grano e dei recenti settezi, ma vera risparmio, ma comunque se andate su gradi antichi non sbagliate, i veri gradi antichi, parliamo oltre 100 anni, da 100 anni in poi, quelli sono i veri gradi antichi, non trovate queste problematiche, altrimenti potete trovare il coagulante che praticamente è come un agente, anzi è un agente di rivestimento della pasta che non è presente in etichetta e che praticamente evita che la pasta vi si incolla, quindi voi pensate che sia un bel grano duro e invece hanno semplicemente messo un coagulante tecnologico e magari la pasta con un'alta concentrazione di glutine. Perché lo chiamano tecnologico? E' un nome che c'è notato. Di fatto il coagulante tecnologico è un additivo però non è considerato additivo ma alle volte c'è la pubblica attitudine che vi dicevo ci vuole essere anche un attenzante. Vi faccio un esempio di coagulante tecnologico che non è presente in etichetta così anche qui vi invito un input su cosa comprare e cosa non comprare. Allora se vuoi andare a comprare uno yogurt bello cremoso perché magari ci hanno messo un bel addensante nulla che è sempre quello più eh adesso non so se lo contiene ci deve stare scritto e allora c'è scritto che c'è quell'addensante e poi non lo comprate chiaramente ma se invece dell'addensante l'addensante ci deve essere presente in etichetta mentre per il coagulante tecnologico faccio un esempio uno yogurt cremoso bello denso con dei pezzetti di frutta messi all'interno e rimane sempre bello denso con questi pezzetti di frutta orbene che i pezzetti di frutta molto probabilmente se non sicuramente contengono un coagulante tecnologico che è un addensante che addensa sulla frutta in maniera tale che rimanga legata alla stessa frutta e non venga separata dal dal yogurt ma taluni addensanti coagulanti tecnologici anche se in percentuali minimali e risiguali possono essere pericolosi sempre nel tempo che vi occupano esempio di coagulante tecnologico consentito consentito ecco quando voi quanti di voi avrete sentito che il pesce diciamo congelato è quello più sicuro eh dipende come dice la canzone dipende la cosa dipende dipende intanto il surgerato alle volte lo scongelano e poi lo ricongelano io qui a Riti ho fatto chiudere i due mercati del pesce proprio perché lo ricongelavano e poi sviluppa ammoniaca il allora il coagulante che un tempo era stato vietato nel 2010 è il perossido di idrogeno è stato vietato ma è stato poi reintrodotto come coagulante nel 2016 vietato tutt'oggi a livello europeo è ancora vietato quindi non si può usare il perossido di idrogeno per sbiancare per sbiancare i cefalopodi quindi i polpi totani seppie calamari e moscardini a livello l'acqua sigenata esattamente l'acqua sigenata che deve essere a una percentuale non superiore all'8% poi a vedere ovviamente nelle frodi alimentari spesso volentieri aumentano queste dosi che poi tendono nel tempo a volatilizzare e quindi fanno di tutto di più in estrema sintesi se trovate questi come spesso si trovano polipi o quant'altro polpi o quant'altro molto bianchi evitatevi meglio quel giallino ecco che è più naturale diciamo più nature quindi questo lo hanno ritrodotto e lo trovate però soltanto prima era presente anche nel pesce frisco poi nei filetti così adesso lo hanno eliminato però è consentito nei molluschi surgelati o scongelati quindi su questi voi ovviamente se ce lo scrivono non dovete evitare di comprarli ho finito grazie